I lavori da realizzarsi nell'ambito del bilancio partecipativo in Riva Vena, attenzionati a cura dell'Ufficio Politiche Comunitarie, stanno proseguendo. Per il momento le spallette del Ponte Scarpa sono state ridipinte, ridando valore alla struttura che ora è in attesa del Corrimano. Nel frattempo sono state posizionate le targhe multilingue esplicative, utili non solo ai turisti, con cui sono stati segnalati il percorso turistico Riva Vena in corso del popolo, sempre all'altezza del Ponte Scarpa, lo stesso Ponte e Palazzo Ravagnanna. Il progetto continua a essere seguito con impegno per dare ulteriore valore all'area turistica. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373